Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritornati dal vostro amico l'IP2200 Ragazzi, benvenuti anche in un 2014 tutto nuovo e ricco di sorprese Allora, prima di iniziare voglio dirvi che quando mi arriverà il computer Faremo una serie con tutti i miei amici su PlanetSide 2 Inizieremo la PlanetSide 2, faremo Days E poi faremo... come si chiama? E poi faremo Rome 2 Total War Allora, loro sono già scelicati, stanno aspettando a me Ma già ho spiegato qual è Infatti, se inizieremo su PlanetSide 2 Intanto qua non stiamo più giocando a The Walking Dead ma stiamo giocando a Slender Eh minchia, orsi, cobra... minchia tutto lo duia... tutto... tutto... tutto sto bosco ci sono i pericoli... Eh minchia, orsi, cobra... minchia tutto lo duia... tutto... tutto sto bosco ci sono i pericoli... Intanto siamo rimaste solo perchè Crystal non la troviamo più E vediamo vediamo... intanto c'è anche il vento che ci congela... Madonna... stiamo giocando veramente a Slender però qua... Madonna... stiamo giocando veramente a Slender però qua... C'è un po' di... C'è un po' di... e what we gonna see? cosa c'è qui? un congelato! Sam? Sam o Sam? 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 non posso molto d'aiuto, sta parlando un cane sembra un po' la scena cioè no, che sia proprio uguale del film io sono leggenda ci avete presente? che c'era solo lui, superstite con migliaia di mutanti, zombie, strani che cercavano di ucciderlo e il suo cane adesso sembra che abbia preso questa linea qua che schese un accampamento tanto questo qua c'ha fame tanto il cane ci ascolta molto e cerchiamo un giro cerchiamoci anche perchè questo punto l'ho visto da qualche parte che 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 sembra un po' da barboni però oh my god grazie io io non non ora c'è una cosa con aprirlo cerchiamo un giro vediamo se lo troviamo guarda ti vedo co non oh più tanto io sto vagando find this free Cioè abbiamo trovato da mangiare però Magari Non lo so Taglierino Vediamo Cioè stasso albero che c'è una corda Oh god I am so sick of that smell Non lo so Girobraghiamo Vediamoci Troviamo qualcuno Andiamo a guardare Cioè stasso 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 Per evitare che si infettava Ma non funziona mai It's ok We're smart We're smarter than all of them And back Ok Ok Che mazzato Ancora E che minchia Che che minchia Sei fatto Che minchia aspetta aspetta knife lo prendo io ok abbiamo il barattolo abbiamo il coltello e adesso mangiamo ma che ti taglio un dito grazie 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 grazie